Non resta molto! Ti prego! Consegnerò l'antidoto quando Osborne avrà pagato per i suoi crimini! Consegnamelo e basta! Oramai Osborne è rovinato! No! Lui cade sempre in piedi! Deve perdere tutto! Vedo che hai un nuovo costume! Ma non basterà! Conosco i tuoi punti deboli! Io non ho punti deboli! C'è una perdita di tempo! Non lo scopo! Io non ho punti deboli! No! Non lo scopo! C'è gente che muore! Ci serve l'antidoto, subito! Salverò la città, ma solo dopo aver distrutto Osborn! Lasciami salvare la città! Poi potrei fare come vuoi! Sa perfettamente cosa voglio! Ora togliti di mezzo, prima che ti faccia del male! Quanto ti ha pagato, Osborn, per proteggerlo? Non sto proteggendo lui! Io voglio salvare la città! Dammi quell'antidoto e ti giuro che Osborn sarà ingrippato! Udardo! Proprio come Osborn! Salva te la mensagne! Udardo! Sei una vera delusione, Parker. Lo sapevi? Ti avevo avvisato, Peter. Ma non mi hai dato ascolto! Lo sapevi? Non ti lascerò vincere! È troppo importante per me! Non quanto lo è! Per me! Non... Non è di quanto la gente sta facendo! Non puoi capire! Tu ignori il dolore che ho patito! Niente di là. Sono danneggiati. Tu dovresti sostenermi! L'ho fatto! Ti prego! Pensa all'uomo che eri! Quell'uomo è morto! Non puoi salvarmi, Peter! Allora dovrei salvarti da solo! E' il mio errore! Tu hai il mio tempio per me! Perché mi costituisci a fare questo? Stavamo per cambiare il mondo! Hai l'aria stanca, Parker? Stanco no! Sono ferito! Atto! Fermo! Parker... se vuoi cambiare il mondo devi essere in grado di sostenere il peso delle scelte più gravose. Sono... assolutamente... d'accordo! No! 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 Perdonti! No! Non ci do lasci! No! Eh... Ah... 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 Peter, eri un figlio per me. Dovevo sapere che mi avresti tradito, proprio come tutti gli altri. Tradito? Tradito? Io ti veneravo, il tuo genio, la tua coscienza, la tua volontà di aiutare gli altri. Tu non ti arrendevi mai! Certo, perché gli uomini come noi hanno un dovere, una responsabilità. Usare il loro talento per aiutare gli altri. Anche chi non sa apprezzarli, dobbiamo sempre fare il bene di chi è inferiore a noi. Che gli altri capiscano oppure no! No, ti sbagli! Io volevo diventare come te! Ma tu... hai rovinato tutto! Sì, certo. Hai ragione, Peter. Oh, adesso mi è chiaro. L'interfaccia neurale mi ha confuso. Posso ripararla? Forse possiamo farlo insieme, se tu mi aiuterai. Sì che ti aiuterò. Manderò qualcuno a prenderti. No! Se finisco in cella, perderò le mie braccia! Sarò bloccato in questo inutile corpo! Ti prego. Non ero in me. Dicevi che non volevi abbandonarmi. Me lo hai promesso. Ricordi? E poi... C'è il rischio... Che io svegli a qualcuno... Il tuo segreto. Fa ciò che ritieni giusto, Doc. Ci rimane solo questo. Peter... Anche quando fa male... Peter, dove vai? Peter! Peter! Peter!